E come da tradizione la comunità dei fedeli di San Giovanni La Punta vive con grande coinvolgimento i riti della settimana santa. Oggi alle 23 ci sarà la solenne veia pasquale, la benedizione del fuoco, l'ascolto dell'annuncio della Pasqua e della parola di Dio e la discesa del telone quaresimale, la svelata del simulacro del Cristo risorto e in seguito la liturgia battesimale ed eucaristica. Ad animare la liturgia il coro Pietra Viva. Domenica Pasqua di Risurrezione e in Chiesa Madre ci sarà la tradizionale stazionale alle 8, alle 10 e 30 e alle 18 nel santuario Mariano Deocesano, Madonna della Ravanusa, la Santa Messa Pasquale alle 20. Lunedì dell'Angelo al santuario della Ravanusa, la Santa Messa come sempre alle 20.